Volete sapere come ho sminchiolato praticamente tutto il campo? Sì, non fateci caso, sminchiolato è un nuovo termine che ho appena inventato Beh, essenzialmente ho pensato bene di collegare un arieggiatore di 4 metri con una seminatrice di 3 metri dietro E finché tipo nel primo giro va benissimo Il problema sorge quando poi continui a fare avanti e indietro in giro per il campo E quindi con la seminatrice hai già seminato da una parte Ma hai l'arieggiatore che è più largo di un metro Quindi quel metro lì continui a toglierlo dove è appena seminato Non so se in realtà potrebbe essere un problema Ma il suo frattemismo metrolo è E me ne sono accorto tipo quasi quando ho finito il lavoro Sono le 7 e mezza di sera e sta per cambiare la stagione Quindi sono razzi E in questo momento non mi resta che lavorare al tripolo della velocità Bentornati popolo della potenza Bentornati ovviamente a un altro episodio di violenza Oggi Continuiamo la nostra storia Essenzialmente, beh, prendendo dei mezzi a noleggio Ho voluto a tutti i costi evitare di prendere ovviamente dei debiti E quindi me la sono messa via Non metterò la calce quest'anno sui campi O almeno su questo raccolto nello specifico Ho preferito prendere a noleggio la roba per le pecore In modo da poter appunto lavorare un attimo Devo ancora prendere la botte per l'acqua E sono 11.000 euro Quindi sono un po' stretto con i danari Per evitare i debitucci Forse dovrei andare a fare quel lavoretto per qualche vicino Questo non sarebbe neanche un gran problema Se non fosse che comunque Adesso ho preso a noleggio un caro da carico Quello di base E ovviamente una Beh, una trincia erba della Kun E quindi sto facendo poi il giro della mia proprietà Tagliando l'erba qua e là Sapete, in maniera abusiva Questo è fattibile perché ancora hanno messo in atto Il mio grande e grosso piano Che avverrà ovviamente nei prossimi episodi Appena avrò un po' di finanze extra Nel frattempo Dovremo accontentarci di tutto ciò Stavo pensando che per coprire questo campo E far crescere probabilmente l'erba Mi sarebbe bastato anche semplicemente Metterci Beh, un ruolo compattatore E compattare tutto Però sarebbe stato divertente, vero? Qua mi ha fatto una piccola salita Mi dà fastidio questa cosa Devo sistemare il terreno Anche se devo dire che rispetto alle edizioni precedenti Hanno fixato un po' meglio Un po' tanto meglio Tutti questi Ambarabacicicoco Vediamo un attimo se riesco a scaricare un po' di erba Nella mangiatoia O direttamente nella fucking bananogine E scarichiamo un po' di erba Direttamente là dentro Dalle vecurozze Andiamo a mangiare Abbiamo optato per la Mangione Insomma la casa per le peccure Un po' più grasse Grassa e grossa Quindi va bene così Mi fermerei esattamente In questo punto preciso Con questo tratto rozzo Abbiamo ancora 9000 litri Se c'è bisogno per l'inverno Avremo anche Del mangime Che si può comprare Direttamente in valle Direttamente al negozio E questo va bene Però Pensavo di fare un mucchio Di erba da qualche parte In modo da Avercelo sempre a portata E poi dare indietro Magari i macchinari Come ogni fattore Che si rispetti Ovviamente Ho parcheggiato Il mio trattore Qua fuori dalla porta E siamo pronti Per uscire E vedere Che inizia praticamente Settembre Settembre Primo settembre Non male vero L'erbaccia È al 50% Un starchiatore sarebbe utile 10.865 euro Andiamo a vedere Che cosa si può fare Per i nostri vicini Ci sta del lavoretti Da fare per i vicini Vediamo un attimo Contratti Avvolgi balle Santi Dio Il campo 71 Se ci stanno questi mezzi E viene così tanto A me verrebbe Devo tosare il prato Avvolgere le balle Per ottenersi i lati Portare le balle Cioè questa è una roba Che praticamente Ci metti 7 ore A farla Quindi magari anche no Popolo della potenza Ho dovuto rispondere Alla chiamata Di un mio vicino Si chiama Michael Michael mi ha chiesto Di venire qui Al campo 32 Che inizia qui E finisce là Oltre all'orizzonte Con questa bestia Ok Per eliminare Le erbacce Lui Mi ha chiesto Se mi prestava il macchinario Anche per i miei campetti Mi ha detto Mike Ma con quelle caccatine Di campi che c'hai Che vuoi fare con questa Non te la presto È un po' Un po' uno strunz Però paga E quindi io sono qua Per 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 lavorare Con il suo macchinario E Sant'iddio Quanti pulsanti Ma che fa C'ha anche la radio Sta cosa Fatemi sentire C'ha la radio C'ha anche la radio Sant'iddio Ok Ok Basta Basta Spendi Se no qua Mi metto a ballare Invece di lavorare Non posso permettermi Questi Lussi Allora Adesso Mi metterò Qua nel campetto Di ignoranza Ovviamente Dispiegherò Le braccine infinite Di questo macchinario Infinito E un giorno Questo campo Un giorno Questo campo Sarà mio Maledetto Michael Sant'iddio Non vedo niente Come si fa A vedere qualcosa Qua dentro Vabbè Allora Penso che questo sia Il pulsante Per dispiegare La macchina Non ancora Concepisco Come fanno Le ruote A spostarsi In maniera laterale Senza Tipo Staccarsi Però nessun problema Non devo capire cose Porca troia Quanto è grande Ok Molto grande È più grande Quanto immaginassi Soprattutto Devo alzarla Perché se no Il mais qua C'è capito Gli spacco Tutto il mais Passando Perfetto 8000 litri Dicevi Di erbicida Non credo che mi basteranno I soldi Forse devo prendere Un prestito Per prendere L'erbicida Per Michael Potevano introdurre Però tipo Un modulo Un sistema Di reputazione Roba così Con i vicini No No Era troppo bello E si parte Si porca Trova come consuma Ti conviene correre Caccia la misericordia Fondo Fondo Mi permetterà Di mantenere Il bordo Lì 22 25 Allora E stiamo già Perdendo il controllo Della macchina Spero Spero che Spero che Michael Non voglia Non voglia proprio Un lavoro Fatto al 100% Perché io Non ci sto capendo Un razzo Finché sto facendo Sto lavoro Ok Ci sto capendo Un razzo Senti Dio Dove Si è allontanato Il campo No Se non si è allontanato Il campo Mi ha preso un colpo Pensato che si fosse Allontanato Il campo Dovrebbe pagarmi Qualcosa come 8000 euro 8000 euro Non sono tanti Sono civili Sono utili Sono Importanti Però Con quegli 8000 euro Poi io Riuscirei Forse A prendere Iniziare a prendere Peccuracce Iniziare a Preoccuparmi Di fare qualcosa Di utile Per la società In mezzo A noleggio Mi vengono 2000 euro Al giorno Barra mese Barra Si al giorno Perché sono aumentato I giorni Quindi Si Presumo Che ci sono già stato Così a naso Quindi Sarebbe bello Vedere Tipo Avere la modalità Della minimappa Quante cose Che sarebbero belle La minimappa Che ti dice Dove ci sei già stato E dove no Tipo Nella realtà Sapete Ma se io vado Nel Fast Vado qui Vado sui Cambio i filtri Cambio i filtri Oh Vedi 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 l'intelligenza Potenza Incredibile Mi sbaglio il menu Però Ok Tra poco Dobbiamo sterzare Verso destra Così Perfetto Tipo Così Seguiamo L'andatura Madonnina Santa Che lavoro Di precisione Di potenza Se vi piace Ovviamente Questo lavoro Di potenza Non vi chiedo Che lasciare 70.000 Mi piace Ovviamente Con affetto E amore E adesso Stacca Perfetto Complimenti Sei un genius No Smetti di tirare fuori I pallet Guarda là Mi manca solo La scritta 32 E un ciccinino E non sono manco Le 11 di mattina Perfetto Mettiamo un po' di music E lavoriamo Di violenza Contratto finito Boys Incredibile Grazie per la compagnia Mr. Tomato Mr. Tomato Era il cantante Mr. Tomato Grazie per la compagnia Vediamo che cosa Mi serve Adesso Dove si va Dove si va Per il contratto 9700 Totale 14.000 Madonnina Sono 14.000 euro Mi deve rimborsare Sì perché Essenzialmente Ero poraccio Prima Non è che C'è un'altra Irorazione Ho visto A qualche parte Irorazione Non da poracci Per favore Raga Non da poracci Non voglio Fai lavorare Lavorare Da poracci 4.600 Con un rimorchio Con il campo 33 Campo 33 E Deve essere qua Vicino a me Mia santa Sti menu Sette mappe Non si capisce Un arazzo Il campo 33 È facile Dai Ce la posso fare Persino io Perfetto Sì Intanto Diamo indietro Questo coso E torniamo Al negozio Ok Questa volta Si sale Su un class E abbiamo Il Bertud Il Bertud Sarebbe bello Vedere il Bertud Quanti litri Di roba C'ha Come capacità Il Bertud Per la cronaca Visto che noi siamo Degli esperti Capito Capiamo subito Dove andare Cosa fare Mi servirà Ovviamente Dove santi Dio È Iroratrice Eccolo qua In fondo C'è il Vantage 73.000 euro Di roba 4.300 litri Quindi insomma Solo due pallet Grazie per i miei amici Solo due pallet Due pallet Di erbicida Anche per te Uno E due E ne abbiamo anche troppo Di erbicida Adesso Carichiamocelo tutto Finalmente Comunque hanno messo Delle icone Che si riescono a riconoscere Easy peasy Mi rimangono 11.000 Qualcosa Le pecore Sono sempre più vicine Riesco a sentir La loro lana Riesco a toccarle Riesco a palparle Finalmente Incredibile Non vedo l'ora Di palparle Le mie pecore Con fiulenza Ma amore Ovviamente Finalmente Queste si definiscono Erbacce Non quelle di prima Allora Vai col bertù Bello Ecco qua Così Adesso le vediamo Quando le bruciamo E che Tant'è Dio A 12 all'ora Il Rabaud La macchinozza di prima Super potente Madonnina Ci deve essere un cane Qua nel Maes A qualche parte Stavo dicendo La macchinozza di prima Aveva una velocità Tutt'altro che Potente Quindi Effettivamente Un lavoro di fertilizzazione Sterilizzazione O Insomma Quel che si fa con le piante È abbastanza fattibile È super Super Divertente Così Diciamo che Insomma Ci assiccava Abbastanza bene Ci assiccava Abbastanza in fretta Ma il campo 33 È tanta roba È tanta roba Veramente Allora Mi piacerebbe Pensare Solamente A dover Seminare Il campo 33 Con una seminatrice Da 3 metri Se Un tempo lo facevano Con i buoi addirittura Un altro contratto finito Un altro vicino contento Ovviamente anche il Michelone Di turno è contento Saldiamo la partita Santi Dio Ok che non si sa mai Quando possa succedere qualcosa Quindi Vediamo qua Fertilizzazione 12.000 euro Fertilizzazione 32 Ma scusa 32 non è qua vicino Ah Sempre Sempre quello Porco ciccio E vabbè 32 L'abbiamo già fatto una volta Che dicevo Possiamo fare un'altra volta Scusate Visto che tanto La prima settimana I primi due settimane di settembre Stiamo passando così Madonnina santa Smettite di fare cose Vai a vedere qua un attimo La Uh Tutti stanno lavorando intensamente Trane me Che sto lavorando praticamente Costa un noleggio 800 euro Rimborso 3.300 Totale Vabbè Raccogli Perché non fanno schifo I soldi non ci fanno mai schifo Sono 19.000 euro Porca miseria Ci ho fatto i big money Ci ho fatto Allora I soldi non ci fanno mai schifo Ma non sono mai abbastanza Quindi A volgi balle Te le puoi mettere direttamente Dove non batte il sole Le tue balle Ma Una fertilizzazione del campo 32 6 ettari Qualcosa Quasi quasi Fertilizzare il 68 Ma Oh ma Michael Hammond C'ha tutti i camponi giganti Sto Michael Hammond Ma che è Ma 14.000 euro Il 32 è vicino Prendiamo il 32 E non ci pensiamo Prestami sti oggetti Che io sto povero Ok Prestami io geli Che sto povero Andiamo al negozio Ancora una volta A piedi Dobbiamo in entrare E recuperare tutto Quindi Eccoci sul McCormick Del nostro vicino Ma che trattore È il McCormick Scusate Cioè È una finta Marca americana Noi qua In America Non ne usiamo Granché Di McCormick Ve lo posso assicurare Che sono un po' Rossi Un po' così Cioè Sembrano dei plasticoni Guarda che intera che c'ha Che è un Tesla Che c'ha il tablet No 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 Non vogliamo saperne Nel frattempo stiamo caricando Come vedete I sacchi di fertilizzante Solido Abbiamo un Amazon Dietro di noi Che adesso chiudiamo La copertura Appena finiamo la carica Andiamo con 8000 litri E andiamo ovviamente Ancora una volta Al nostro campetto Ignorante Del Campo 32 Ok Sembra che Ci abbia i fanali Che manco Manco la Fiat 500 C'è gli a Posteriori Così Cioè Capito Dove Dove si passa Qua c'è il guado Sì Ok Di qua Perfetto Passiamo piano Pianino Ok Piano Michelino Piano Campo 32 E questo E quindi Ovviamente Ancora una volta Non vedremo niente Dovremmo utilizzare La strategia Del Io guardo la mappa Perché so bello Vabbè Direi che mi butto dentro Già così Proprio di ignoranza E direi che parto Santi Dio Qua mi sta consumando Tissimi E manco sono entrato Sto fertilizzando Da vicino Praticamente So abbastanza So abbastanza largo Sto abbastanza bene Non vedo un arazzo Non vedo Sì Probabilmente Sì Controlliamo subito Dalla nostra mappa Interattiva Intelligente Che è questa Perfetto Forse so Troppo vicino Al bordo Ci cene in più In là Grazie Il range Non è lo stesso Ovviamente Del fertilizzante Liquido E stiamo Dando Del fertilizzante Solido Dopo il liquido Vabbè Insomma Saprà lui Che fa Ovviamente Michael Se è pieno Di soldi Così Saprà Anche quello Che fa Con i suoi Campetti Virili Io invece Ho bisogno Di una botta D'acqua E delle pecore Poi in realtà Le pecore Producono La lana E io La lana Che ci faccio Con la lana Ci faccio I maglioni Che arriva L'inverno No Business plan Incredibile Incredibile Con tanta potenza Ferma 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 Che qua Consumi La roba Di zio Ferma Tutto Bene Con Con estrema Dificulenza E potenza Sono riuscito A schiacciare I pulsanti A caso E fermare Il trattore Quindi Vediamo Che il contratto È stato Fatto Beh dai Più o meno E fertilizzato E 32 È perfetto È bellissimo Quindi ancora una volta Andiamo a prendere Quello che ci spetta Ma che ci sta Puglip Zoe Zoe Scott Madonna che bella Non posso sposarmela Facciamo prima 18.000 euro Dammi qua Zoe Scott Madonna Settembre È il mese Più bello A quanto pare Fertilizzazione Il campo 25 La madonna Pure Isaac Ha bisogno Di aiuto Ma c'è il campo 68 Di Michael Con lo stesso attrezzo Che ho appena usato Lo stesso McCormick Perché Michael È quello che c'ha Non è che c'ha altri mezzi E sì Sarebbe interessante Ma io ti dico Grazie Ma anche Sì Vado subito No in realtà 23.000 euro Significa che posso andare A prendere le pecurozze E sapete cos'altro posso prendere? Posso andare a vedere Ci sono sconti? Cioè tu mi stai dicendo Che ci stanno Questi trattori in sconto? I JCB a 70.000? E il Maxum A 159.000? Insomma Belli come trattori Il Maxum Soprattutto bello 175 cavalli Non è un gran che Nelle mie situation Ma è bello È bello potente Perfetto Siamo qua Tornati a casa Erbaccia A 50% Quasi 47% Calceviva richiesta Mi dice La calceviva Non ci interessa Pagamento salari Ma ho prenduto per sbaglio Ma che salari E salari Oh Ecco qua L'erba In fase di crescita Perfetta Anche questa Così poi la tagliamo Le peccure Non ci stanno Compriamo le peccure Dai Compriamo le peccure Che peccure vogliamo comprare? Le peccure La landrace O la nero bruna Svizzera di montagna Beh insomma Quella grande Grossa 488 euro Di montagna Del galles Viene di più Non capisco perché Allora io prendo Le voglio mature Ste peccure E si prendono 25 peccure In tutto Giusto? Allora io ne prenderò Ripolluzione in 5 mesi Ne prenderò Beh questa Palleggia di scrivere La prenderò 20 peccure 20 peccure Per 10.760 euro Ok Le altre 5 Ci pensano loro A riempire Quindi salute Zero Animali 20 Hanno cibo Perfetto Quello che non hanno Sicuramente tipo acqua Ma l'acqua Vi serve raga Eh? Vi serve? Scusate Posso entrare nel recinto Ok Le pecore Sono bellissime Pecore D'amore Questa è acqua Non ce l'ho messa io Eh? Probabilmente Probabilmente In questo In questo recinto Così avanzato E virile Beh diciamo Che l'acqua È collegata A un impianto Ah si entra Dalla porta Scusate Si poteva entrare dalla porta Senza saltare il recinto Come un piccio banana Va bene Va bene Mi piace Ah si può anche uscire dalla porta Scusi Cioè funziona pure questa porta No ma non ci crea Pure l'ufficio Ci abbiamo Che Che sta scritto qua Ah Sì Era bello se funzionava Sto pannello Invece di essere solo un disegno Però vabbè Stacchiamo la corrente alle pecore E non ne parliamo più Perfetto Ottimo Abbiamo fatto grandi business Le pecore sono contente Forse hanno Cibo Acqua non gli serve Di solito Gli serve pure l'acqua Ma quanto pare La stalla per ovini Andiamo a vedere un attimo La stalla per ovini Che dice Stalla per ovini Totale erba Ottimo Perfetto Io sono contento Gli animali hanno bisogno Erba fienno Efficacia al 100% Ottimo 4500 litri di erba Siamo tutti contenti Allora Perfetto Signori Al prossimo episodio Adesso abbiamo le pecore Le prime pecore Non mi serve manco La botte d'acqua Sono contento Sono contento Voi siete contenti Tutti siamo contenti E ci vediamo al prossimo episodio A Elm Creek In America In America